Il primo tempo da squadra di Serie A, non si può dirlo, giocato con personalità, ha venuto a Roma all'Olimpico a fare la partita. Banzano, cross per Rodriguez, l'uscita di Alisson che si scontra, il gol, il pareggio di Garitano, che pasticcio, che frittata nella Roma, al 28esimo ha pareggiato Garitano. Sì, lì c'è stata un'indecisione tra Manolas e Alisson.